ben trovati siamo qui per parlare della nostra clausa f1 anzi ve ne parlerà salvo è tornato da noi per darci e illuminarci sulle caratteristiche principali a livello tecnico va bene bene vi lascio al suo intervento buongiorno picciotti siamo qui con il nostro produttore di fiducia gianluca siamo nell'azienda produciamo naturalmente e oggi parleremo del nostro prodotto costoluto clausa f1 il clausa f1 è una nuova varietà che è stata registrata all'inizio del 2020 sul seguimento appunto costoluto marmante tra le caratteristiche diciamo parliamo appunto delle caratteristiche principali è una varietà che ha delle tolleranze molto notevoli ai virus principalmente al mosaic virus e al tilc sia fusarium che nematoti infatti come potete vedere è una pianta che è molto vigorosa sia nella parte bassa che nella parte alta con un fogliame largo e molto scuro questo è proprio perché i geni della tolleranza rendono la pianta molto più vigorosa è un prodotto che si deve coltivare con i bombi con l'impollinazione naturale soffre l'ormone naturalmente se i bombi non lavorano o ci sono problematiche nell'allegagione causa le temperature o troppo calde o troppo fredde naturalmente uno aiuta con gli ormoni ma piccole dosi senza strafare senza andare con le dosi che si usano normalmente in altre varietà competitor possiamo farlo con i bombi perché nella genetica ha una costolatura molto evidente invece altre varietà diciamo che tendono a diventare più rotonde più lisce quindi si usa l'ormone anche per arricciare il prodotto quindi abbiamo un arricciatura molto evidente anche con l'impollinazione naturale e il prodotto ha una lunga conservabilità il classico long shelf life invece le altre varietà appunto tendono ad ammorbidirsi in posti raccolta invece questo prodotto lo puoi raccogliere sia al rosso sia ad colorazione invaiata che si manderà molto molto duro e consistente anche in posti raccolta in ammaturazione avanzata ha un colore rosso granato molto brillante e riesce a coprire tutto quindi anche se poi la spalla si accendua diventa una spalla molto evidente ad esempio come nel frutto questo qua in basso a maturazione completa non lascia nessun alone o nessun diciamo macchia ma copre abbastanza bene il colore inoltre tra i consigli tecnici per la coltivazione di questa varietà vogliamo dare altre due indicazioni è una varietà che ha bisogno di invito regolatore per la crescita soprattutto nelle fasi iniziali della coltivazione perché perché essendo una pianta molto vigorosa abbiamo spiegato perché anche delle alte tolleranze è una pianta che tende ad allungare l'internodo quindi la distanza l'internodo e la distanza tra un grappolo e l'altro allungando questo internodo diciamo che dobbiamo recuperare la produzione nelle parti superiore invece utilizzando fitoregolatori per la crescita sia chimici che naturali ognuno usa quelli che comunemente è abituato a usare riusciamo ad accorciare l'internodo e quindi a regolarizzare la produzione di clausa f1 e soprattutto anche nelle fasi iniziali di non eccedere con congimazioni azotate perché anche esse spingono molto la vegetazione e la vegloria della pianta quindi andare con un binario 52 34 con un monopotassio ma naturalmente parliamo di fasi iniziali quando diciamo spacca la prima fioritura la seconda dopodiché poi ogni pianta ogni varietà ha bisogno di tutti elementi in proporzione bilanciata essendo il primo anno commerciale perché lo scorso anno è stato testato in piccole proporzioni in piccole pacelle in diversi agricoltori in diverse condizioni ha avuto un buon riscontro sia dal produttore ma anche dal commerciante che ne ha gradito appunto la conservabilità la qualità e anche il sapore perché ha un sapore che ricorda i vecchi costoluti vecchi marmanti che si coltivavano negli anni 60 70 80 appunto in sicilia e quindi anche clausa diciamo che clausa è un nome generico che si intendeva una varietà di una volta la tipologia diciamo come dire il ciliegino perché nome clausa il nome clausa viene dall'idea che lo scorso anno mentre lo testavamo in un'azienda assaggiandolo il produttore e anche il commerciante disse mi ricorda la vecchia clausa il sapore perché la vecchia clausa perché anticamente si coltivava tanto costoluto tanto marmante in sicilia diciamo che era molto prevalente rispetto al ciliegino e datterino ad altre varietà e non era una varietà clausa ma era identificare una tipologia di pomodoro a clausa e quindi abbiamo voluto proporre questo nome che è stato accettato e quindi un corso di registrazione con nome clausa con la k l h usa e adesso quindi questo marmante ha un nome che diciamo ricorda le origini del costoluto in sicilia posso aggiungere la mia testimonianza del fatto che i frutti di questo varietà di pomodoro sono veramente eccellenti a livello di sapore consistenza colore li ho provati ricordano veramente le vecchie varietà che si facevano qui come detto da salvo veramente una cosa bellissimo una esplosione di sapore in bocca per quanto riguarda la coltivazione anche a livello hobbistico comunque in in realtà più piccole intanto ho preparato delle schede delle concimazioni le troverete troverete il link in descrizione al nostro blog si può fare anche questo sempre con un supporto e magari o andarlo a ombreggiare perché per evitare la caratteristica che si viene a creare con il sole diretto nei frutti va bene quindi di un po scottatura se si può dire del frutto sotto questo punto di vista come tutti i marmanti e che costoluto varietà insomma di marmante costoluto meglio va ombreggiato quindi se il vostro filare che volete predisporre predisponete anche in qualche modo una anche leggera ombreggiatura nel periodo fino a primavera estate va bene quando il sole si fa sentire molto forte per il resto io vi invito sempre a seguirci quindi iscrivetevi per chi volesse contribuire attivamente c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale cliccando sul tasto abbonati in basso avrete tutte le informazioni insomma per vedere come funziona l'abbonamento va bene fate i bravi picciotti e coltivate il pomodoro quello buono e e e e e e Grazie a tutti.